Sarà un Natale difficile per gli oltre 100 dipendenti che si occupano dell'appalto pubblico del servizio menze impegnati nelle casi di riposo, negli ospedali e nelle menze scolastiche del Terramano, dipendenti che da diversi mesi non percepiscono lo stipendio e la cui condizione con il passare del tempo è diventata insostenibile. Sì, un Natale difficile e pieno di disagi dato che appunto come detto bene negli appalti pubblici della nostra provincia tra menze scolastiche, ospedale e case di riposo si va dai 2-3 stipendi arretrato fino ad arrivare a 8 stipendi indietro. Quindi sicuramente un Natale difficile e pieno di disagi, anche se ovviamente nell'ultima settimana sono arrivate le buone notizie, ossia che la nostra battaglia ha compiuto il primo passo, la prima vittoria, ossia la revoca dell'appalto alla casa di riposo e l'intenzione da parte degli altri enti di revocare anche loro gli appalti. Bollette, abbonamenti, fatture da pagare e conti correnti in rosso sono solamente alcune delle problematiche che questi lavoratori stanno vivendo. Una condizione drammatica testimoniata dai tanti messaggi che oramai quotidianamente arrivano ai rappresentanti sindacali. Sì, i disagi sono ovviamente continui e non si fermano a mesi fa ma continuano ad arrivare messaggi e richieste di aiuto. Noi li abbiamo anche pubblicizzati, nel senso che gli abbiamo resi pubblici quei messaggi per far rendere conto a chi doveva decidere di accelerare le operazioni e che queste situazioni non devono più ripetersi. Lo abbiamo gridato, urlato con forza, negli appalti pubblici queste situazioni non possono accadere. Se pensiamo peraltro che sono stipendi di 600, 700, 800 euro e nella maggior parte dei casi sono stipendi che garantiscono la vita quotidiana delle persone. Ora capite bene che otto mesi indietro cosa può davvero causare all'interno di una famiglia, qual è il disastro davvero economico, psicologico e fisico. Perché lo abbiamo anche detto in questi giorni, si stanno ammalando lavoratrici e lavoratori per condizioni di disagio economico, oltre che anche per le condizioni in cui sono le menze. Perché non c'è solo il ritardo degli stipendi, ma c'è anche un problema legato alla sicurezza nei luoghi di lavoro perché c'è una condizione disastrosa di questi appalti.